Non solo la Rai. Com'è giusto che sia, lunedì 26 marzo 2018 anche Mediaset varia la programmazione TV in segno di lutto per Fabrizio Frizzi. Da avanti un altro a uomini e donne, almeno per oggi gli show del Biscione si fermano per rispetto al conduttore TV. Ad annunciare su Facebook lo stop di avanti un altro per una sera è stato Marco Salvati, uno degli autori del programma di Canale 5 con Paolo Bonolis, per la scomparsa dell'amico e rivale televisivo Fabrizio Frizzi, ha scritto Salvati Online, la puntata odierna di avanti un altro non andrà in onda. Al suo posto, fa sapere Mediaset, nella guida TV con gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione di Canale 5, nel preserale di stasera, dalle ore 18.40 alle 19.55 circa, verrà trasmessa una nuova puntata della soppopera Il Segreto. Lunedì 26 marzo 2018 cambia anche la programmazione TV di Mediaset relativa a uomini e donne. Invece di una nuova puntata del seguito dating show, oggi nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda un appuntamento un po' più lungo con una vita, soppopera che in data odierna terminerà verso 16.00, lasciando poi spazio all'isola dei famosi, a Il Segreto e a Barbara D'Urso con pomeriggio 5. Maria, De Filippi, NDR, e tutta la fascino PGT, così recita il testo del messaggio diffuso in rete sulle pagine social di uomini e donne, abbracciano Carlotta e Stella, rispettivamente moglie e figlia del presentatore scompa, NDR, e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per un uomo onesto, per bene, educato, gentile oltre che un grande collega, conclude la nota pubblicata sul profilo Facebook della trasmissione, decidono di non andare in onda quest'oggi con le puntate registrate e previste da palinsesto. Ciao Fabrizio mancherai a tutti noi. Per il resto, Mediaset comunica anche le altre variazioni riferite alla programmazione TV degli altri canali del gruppo. Su Mediaset Extra, scrivono dal Biscione in una nota, dalle 18.00 di oggi, lunedì 26 marzo 2018, andrà in onda lo speciale dedicato a Fabrizio Frizzi, con alcuni momenti tratti dagli show come Sorelle in onda su Canale 5 nel 2003, e Telegatti del 1992. Nel comunicato, Mediaset annuncia anche il rinvio della seconda puntata dalla 500 alla 1 ieri oggi italiani, il nuovo programma di rete 4 condotto da Rita dalla Chiesa. Grazie.